E' stato appena pubblicato nel U.S. Hastings Women's Law Journal, rivista dell'Università California Hosting College, uno studio dedicato a storie di resilienza al femminile. Tra gli autori figura anche la professoressa Lucia Ruggeri, direttore della Scuola di Specializzazione in Diritto Civile dell'Università di Camerino, la quale ha illustrato la vicenda dell'anziana donna costretta ad abbandonare la sua casa, il cosiddetto caso di nonna Peppina, e la legislazione emergenziale da essa scaturita. La pubblicazione è frutto di una collaborazione internazionale che vede impegnati l'Ateneo di Camerino, la State University della Louisiana e l'Università Toyo di Tokyo. Oggetto della collaborazione è l'analisi multidisciplinare della legislazione adottata da tre stati per verificare in quale misura sia garantito il diritto delle popolazioni colpite da disastri a poter restare nella loro terra. La tematica di rilevante significato per le aree interne marchigiane colpite dal sisma del 2016 è stata anche oggetto di un recentissimo finanziamento ottenuto dal Team Unicam.